salve a tutti amici artisti siamo qui con la decima puntata di minecraft ita questa è la prima versione dello snapshot della 1.14 stiamo giocando nella prima versione del snapshot abbiamo fatto già qualche prova prima dove evitare che il video venisse bugato e quindi partiamo guardando le novità cioè in realtà andiamo a costruirle allora prima di tutto hanno fatto un cambio di come si chiama di texture se ci hai fatto caso si infatti l'immagine sembra più pulita più chiara conghe oggi andiamo a cattare la palestra quindi vai devi cliccare sopra perché questo è il crafting automatico e poi prendi la palestra ecco qua vabbè sta all'altro qua è uguale quindi esco prendi la palestra e farla vedere che sta che sta qua ok esco se lo trovo eccola qua andiamo però andiamo pure a provarla no? e non abbiamo le frizze ah cazzo vero aspetta vedi un po facciamo un attimo questi se no dobbiamo pulire i materiali ok ce l'abbiamo le frizze almeno 5 però forse andiamo a dormire se no appena che vengono i mostri allora buonanotte alzai da letto comunque se ci frega su da un po' al legume scelta per farti capire l'effetto di un arco sembra un po' un arco guarda dal eh ok per sparare in pratica com'è l'arco sentiamo scena f5 e carica anche puoi lasciarli clicca ma forse eh ok la casa non si sembra più bella così girati ora vediamo ci alleniamo un po' così la vediamo da lontano vediamo pure la casa eccola qua la casa la casa piramide no è posta pure facendo pure la sassu e poi la casa sul albero che abbiamo fatto nella scorsa puntata ovviamente non possiamo mettere la optifine perchè non è ancora uscita per lo snapshot ma guarda che se fai caso anche le foglie qua sono diverse da quando poi l'abbiamo realizzata vedi eh sembra che questa cosa qua quindi legno solo nella terra sembra che non è cambiata eh ma forse perchè comunque andiamo a farci dire se abbiamo cambiato la texture pure del grano andiamo a vedere quindi no aspetta devi mangiare quindi andiamo a mangiare nella cassa c'abbiamo la eh vabbè ci abbiamo un cibo crudo di zon ha poi tolto le... no non ci stavano proprio allora ci spazio non calce la spunto no va che mi piace ci da mangiare vabbè la carne cruda cioè c'è proprio zombie carne ricca ce la mangiare tipo zombie sì sì non fa niente ownerio, eschè mangia gna 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 lo mangiamo proprio in stile zombie gna 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 gnia gna gna camminando camminando ok ok dicevamo le spieghe comunque volendo in questa puntata potremmo 11 e d'oro si da più lì del grano rispetto all'altro facciamo un'altra cassa non l'hai dimenticato no qua sta la cassa con dentro il grano il foraggio vediamo pure qua com'è allora qua pure la prossima altra cosa ho cambiato la pietra mi dice non entra le pecore o escono le pecore mi sa che escono le pecore ma qua eravamo intenzione di fare una solo un solo punto di raccolta o che non abbiamo ancora finito c'è nel senso non abbiamo ancora messo niente dentro vabbè però adesso va bene ok eccoci qua ok fai un po di carne di maiale perché in pratica abbiamo deciso perché non sapeva che cazzo fare sinceramente di andare nell'edere finalmente massacro una pecora non so perché per non farci denuncia non avevo un maiale ah quello è quel famoso davanti ah è lo stalker e ma ce la mangiamo a fine volatine lasciala stascia lasciala stascia vabbè però possiamo fare così non si famisce si ricorda chi comanda giusto veramente chi comanda ok adesso ci vediamo quando tutto è cotto eccoci qua adesso mi ha sfattato un ruttino steve bella entrata allora diciamo nel nether ma nel nether ci sono alcuni da spaccare ehm si eh scheletri da sfasciare si pericoloso ah basta pronti ci succhia ma perchè non ok sta caricando ci pensi tipo sbagga tutto papapam tutto il mondo a puttane non lasciate ogni speranza voi che entrate vamoci voi vedi perciò portiamoci un acciolino così diamo fuoco no perchè in pratica ci potrebbe essere il ghast che ci spara e ci fa esplodere il portale ah ah cioè il fuoco quindi poi rimaniamo qua in eterno così no no si vuole creare il portale ehm pigmen eh pigmen si guarda il blocco di oh cazzo la lava scappiamo scappiamo non so se l'abbiamo detto è scisa così eh scisa l'atto è così eppure mi sa se sfondando c'è un soffitto che si può bucare si si può bucare ma la fantasia vedete che mi dice si può fare una sorta di scala o pilastro che sali ah allora il quarzo è più bello guarda il che? ah il quarzo vediamo un po' come è sta guarda guarda la mosca l'ammazzo se non si toglie tanto ma ce la mangiamo come carne di porco la diamo a steve ok la lava ci stava si quasi può mangiare basta abbarire questa cosa che siamo viste si è fatta a strada la grande allora in realtà noi possiamo fare così però c'è l'unica problema paura che ci perdiamo però non ci perdiamo e quindi diciamo a perdere e se ci perdiamo è anche meglio che se facciamo altre puntate eh lo so però vediamo di non perderci troppo allora diciamo che dobbiamo qua questa parte la faccio un attimo io perché stiamo nel vuoto e quindi se cadiamo perdiamo la barezza e come è una delle mie puntate mi ricordo facevi tu che non morivi bam andati giù non è vero ah non è vero no sono stato io vabbè non ho detto niente stai in shift però fa male la mano perché poi c'è anche la vai tieni premuto tu allora qual è? maiuscola è minimo solo questo eh però non stancarti se no no ma già stancare no sei pronto a tutto ok ma che vuoi costruire? voglio costruire no in realtà non è che voglio costruire voglio trovare una fortezza del nether eh ma non sono facile a trovare non è che c'è diciamo perché ci trovano quindi ci possiamo ci rischio che ci allontaniamo parecchio e c'è per dimma ma l'ho fatto apposta questa aspetta ah ok ho lasciato ho sentito tipo è il pigment ah il pigment già ah facciamo che se no ci perdiamo mettiamo dei blocchi e camminiamo capi? così capi così capi così sappiamo che dobbiamo andare tipo per di qua ecco diciamo diciamo tra virgolette che facciamo andammo giù eh quello la che poi è andato tutto eh ma il problema è che ti mantenisci il problema è il problema è un altro che in quella quella serie e tipo eravamo la terza puntata già già stavamo nel meteo eh il problema è qui invece non abbiamo capito perché se no raggiungiamo i 10 minuti non entrano i soldi e se no facciamo i video lento ecco che va a finire che poi tu alla decima puntata vieni lento è finita la serie sti cazzi no 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 invece ne dobbiamo fare tipo almeno alla sessantesima puntata eh certo ma almeno 60 ecco ma questo tra poco si spacca il piccone poi puoi lasciare ok ma allora ingarcia da nuovo ok bruciamoci un attimo ok se nessuno viene eh craftiamo un attimo questo e ritorniamo eccoci qua abbiamo craftato graffettato sette minuti di video un altro poco un altro pochino poi cediamo dalle pavle ahahah ahahah ma perché il video che allora mo se non mi sbaglio dobbiamo mettere la quinta quinta puntata quinta puntata sì che uscirà domani e che domani è mercoledì anche se vabbè quando uscirà questo si sarà un altro giorno e vento che si sente è un altro che si porta a casa eh ah allora stavo pensando visto che dobbiamo lo annunciamo prima questa cosa che stiamo giocando nella 1.14 quindi volendo tipo dopo in editing nella nella sesta puntata tipo mettiamo una parte in una piccola una piccola parte diciamo che dalla decima puntata in poi giochiamo in 1.14 e poi non ci dimentichiamo che va corretto anche il nome del consiglio dell'albero che era fatta albero è fatta a tapostrofo albero quindi con calma poi dovremo fare anche questa correzione anche se questa è la molto parecchia ma no è quella dopo sì basta che andiamo a correggere sì però l'unico problema è che tipo voi quando ci scrivete noi già stiamo è parecchie puntate avanti è certo shifta ok faccio shift cioè voglio prendere questi blocchi perché sono belli da ma ma sono eh sono belli infatti sì perché ti dico di mettere i shift ti lascia un attimo prendi danno ah cazzo il shift no no non hai capito non ho mai capito perché è una cacata ma fa che il shift va conge conge napoletano conge conge piano piano comunque io penso che nella prossima puntata troviamo la fortezza del nether perché adesso stiamo cazzeggiando nel nether eh ma perché è così facile trovarla no no io non questo non lo so devo dire la verità però non penso sia così facile trovarla ma poi nasconde qualcosa di buono di segreto di importante no vabbè stanno i tesori poi stanno i spawner tipo altre gemme altre cose del genere no però stanno tipo i spawner i tesori c'è la bella i bauli con dentro tipo qualche diamante e poi tipo anche lo spawner di blazer si trova il 90% dei casi solo dentro una fortezza ah ce n'è parecchio qua eh quello giustamente che sono di lava questa mi ho preso uno spacchè 28 no due spacchè 28 ok sarà forse questo no no cazzo si vabbè poi tu spawner la lava davanti a te poi eh il cazzo potetevi pigmento abbiamo altre cose da fare pigmento è il cazzo cazzo oh oh ci siamo spaccati le cosci da 1 infatti ma stanno andando in carrozzella ok abbiamo ufficialmente perso tutto tutto e vabbè ma è una novità per noi non è non è una novità tutta regola cazzo vado in shit cazzo vado in shit cazzo vabbè tanto tanto ci abbiamo perso tutto quindi a questo punto nooo cazzo sono due che vita di merda e che cazzo è una puntata sono speciale questo speciale di merda a tra l'altro come finire a puttani tra l'altro dobbiamo anche ha rotto le panze questa mosca mannaggia no allora mannaggia allora che dobbiamo fare eh niente penso che la puntata è questa come andare a puttani fai anche un bordello così mi hai dato più chiaro no io mi ricordo è chiaro che una puntata puttani io mi ricordo che sull'Xbox esisteva un metodo per creare un suicidatore eh ma perché ci avevo bisogno vabbè l'abbè l'abbè sempre per la per la come si chiama come si dice per la serie mai una gioia mai una gioia e andiamo a puttani mai una gioia 2 3 2 2 mannaggia rifacciamoci un attimo poi diamo un occio perchè il tempo scurre allora rindossiamo per la terza o quarta volta è la milionessima volta l'armatura aspetta ci stiamo visto così è figio ok allora tipo armoriamoci come ironman come ironman comanda a posto eh sì sti cazzi spero che questa ondata tu vi continui e vi sia piaciuta spero almeno vi faccia ridere e ci vedremo all'undicesima ondata alle prossime sfortune ai prossimi suicidi al prossimo video bye bye